Musica Ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornate sul mio canale come prima cosa vi ricordo subito se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al mio canale cliccando al tassino che trovate proprio sotto al mio video e attivare la campanella così da non perdere le prossime uscite e che vi aspetto anche su Instagram ma come al solito sotto nell'info box trovate tutti i link di riferimento per quanto riguarda i miei social e come al solito sotto nell'info box trovate anche in descrizione i prodotti di cui vi parlo nel video anche se in questo caso, anzi quasi sempre, lo capite dal titolo però magari trovate per bene scritto di cosa vi parlo in questo caso parliamo di profumi e profumazioni meravigliose e le profumazioni di Armani sono stata scelta dal sito TRND sotto nell'info box vi lascio anche il link se volete registrarvi è un sito dove ci sono delle campagne tutti i candidi e in alcuni casi viene scelto appunto per testare dei prodotti ovviamente io quando vedo profumi non posso non candidarmi e quindi mi sono candidata per testare queste due profumazioni di Giorgio Armani sono stata scelta fortunatamente e mi sono state appunto inviate due profumazioni da 15 ml sono appunto due profumazioni create appunto per questo sito per farceli provare entrambi sono stata troppo felice perché sono fantastiche le profumazioni di Giorgio Armani così ho avuto modo di provarle due profumazioni fantastiche diverse tra di loro e quindi adesso vi andrò a fare una piccola recensione vi parlerò di queste due profumazioni che in questi giorni ho avuto modo di provare e testare a fine video poi vi dirò qual è il mio preferito ovviamente iniziamo parlando di C.E. de Parfum di Giorgio Armani e appunto vi faccio vedere pure la bottiglietta piccolina carinissima, troppo troppo bella con questa colorazione rosa del profumo e si e de Parfum appunto induce sulla pelle e nebbra i sensi è elegante, è voluttuoso è intenso ma nello stesso tempo appunto delicato è un accordo olfattivo raffinato e distintivo che gioca con le emozioni perché è molto fedele allo spirito sartoiale e che ritroviamo in Giorgio Armani appunto quindi questa versione femminile nasce dal connubio tra il nettare di Ribes nero, il ciprie moderno e il legno biondo muschiato abbinati a tocchi di fresia e rosa di maggio quindi ha un profumo pensato per la donna moderna forte e al contempo femminile sofisticata ma carismatica una donna che incarna appunto perfettamente l'essenza dell'eleganza e dello stile all'italiana una donna che dice sì alla vita sì alla forza d'animo sì ai sogni e sì alla libertà ma anche sì all'amore e sì a se stessa soprattutto quindi per una donna davvero molto sicura di sé ma comunque sempre elegante e sofisticata come appunto un po' ritroviamo lo stile del nostro amato Giorgio Armani che è un'icona all'italiana quindi adesso vado su Fragrantica così vi leggo le note della profumazione quindi troviamo negli accordi principali appunto legnoso, vanigliato, aromatico, speziato, leggero fruttato, verde, pacioli, floreale, rosa e terroso sì di Giorgio Armani una fragranza del gruppo cipre fruttato da donna è stato lanciato sul mercato nel 2013 il naso di questa fragranza è Christine Angel le note di testa è ribes nero le note di cuore sono rosa di maggio e fresia lì le note di base sono vaniglia, pacioli ambroxan e note legnosi quindi come vi dicevo è un profumo intenso avvolgente ma sicuramente delicato ha questo cuore gentile, delicato bellissimo ha questa parte floreale che comunque si sente tanto nella profumazione ha questa rosa che non è fastidiosa perché appunto viene viene accompagnata appunto dalla fresia che è una nota che io amo tantissimo e quindi che gli dà questo aspetto femminile intenso ma comunque sempre rimanendo nel romantico nella donna dall'aspetto romantico ma comunque carismatica quindi è una profumazione davvero molto bella mi sta piacendo tantissimo e dura davvero tanto è una fragranza che si fa sentire io penso che però questa profumazione è adatta anche per il giorno appunto perché comunque ha questo cuore gentile che è una parte importante della profumazione quindi la trovo una profumazione per questo periodo perfetta e adatta appunto per tutto il giorno è davvero bella dolce e romantica e si rispecchia tantissimo con il cuore appunto della casa Giorgio Armani l'altro ecco la scatolina è sì passione rosso fiammante troviamo come dominante appunto per quanto riguarda la profumazione è bellissima anche la bottiglietta che mi è stata inviata che ha questa sfumatura dallo scuro dal rosso fuoco acceso alla trasparenza che troviamo sotto e si passione appunto è il nuovo profumo donna di Giorgio Armani che è potente è una rivisitazione appunto della fragranza femminile classica e possiamo dire che in questo caso si arricchisce di una nuova dimensione che Giorgio Armani appunto ha definito come una combinazione irresistibile di grazia forza e spirito di indipendenza è un profumo intenso e deciso pensato appunto per una donna determinata e che osa dire sì è proposto appunto in questo flacone rosso vivo e vi metto anche la boccia grande per farvi vedere quanto è bello il pack e si passione ha un profumo luminoso e sensuale che induce appunto fiducia charme e forza è fresco brillante in apertura e si passione è dominato appunto dalle note speziate di pepe rosa per uno strepitoso effetto adrenalinico mentre vivaci e radiosi accenti di pera una volta attirata l'attenzione illuminano l'iconico nettere di ribes nero che ritroviamo anche qua per un audace tocco di stile il cuore è floreale batte appassionatamente sulle note femminili del gelsomino e della rosa che ritroviamo anche in questo caso per un profumo potente che ricorda una donna in apparenza fragile ma capace di mostrare una forza straordinaria se guidata appunto dalla passione l'aggiunta appunto di eliotropio rende la fragranza ancora più irresistibile e la trasforma in un invito a concedersi piccoli lussi e piaceri mentre il calore e la sensualità della vaniglia e dell'assenza del legno di cedro riflettono quel senso di sicurezza che prova a chi indossa un rossetto rosso e è magia pura questo profumo è magia pura fate conto che quando l'ho messo la prima volta se ne ha innamorato anche Diego infatti adesso fortunatamente me lo vuole che comprate grande quindi sono troppo felice di aver avuto questa opportunità ma adesso andiamo a leggere gli accordi principali anche se un po' ve l'ho detto nell'introduzione del profumo comunque gli accordi principali sono fruttato dolce legnoso rosa vanigliato speziato leggero floreale fresco talcato e agrumato si passione di Giorgio Armani è una fragranza del gruppo floreale fruttato da donna si passione è stato lanciato sul mercato nel 2017 è stato creato da Christine Angel e Julian Mas le note di testa sono pera ribes nero peperosa e pompelmo mentre le note di cuore sono ananas rosa eliotropio gelsomino e le note di base sono vaniglia cedro amberwood e paciuli è un profumo bellissimo ricco di note che amo follemente e stanno da dio tra di loro quindi è un profumo che vi consiglio di provare se non l'avete fatto perché è davvero passione pura è un profumo intenso passionale per la donna che osa dire di sì molto femminile rispetto all'altro che è un po' più gentile e romantico questo è passione pura ma come ce lo fa capire anche il nome stesso appunto perché si passione è tutto un programma e anche il colore rosso intenso dell'amore del sangue ti fa capire che cos'è questa profumazione è qualcosa di meraviglioso ha una durata pazzesca veramente lo metti la sera per uscire la mattina che svedi ancora te lo senti addosso è prepotente è intenso ma non mai fastidioso davvero è sempre molto raffinato come è lo stile appunto del nostro Giorgio Ormani quindi ha creato davvero due profumazioni rivisitate perché poi questo è stato il primo profumo lanciato nella linea sì e ha creato qualcosa di unico e meraviglioso entrambi sono fantastici ma ovviamente l'avrete capito il mio preferito è sì passione è davvero intenso è audace è bello bello proprio bello da portare è passione pura ha lo stato puro e ve lo garantisco l'ha detto anche Diego che quando lo sente anche chi ci sta accanto prova la stessa emozione super passionale profumi bellissimi che hanno una durata pazzesca io sono troppo felice di averli provati grazie a TRND vi ricordo che sotto l'info box ovviamente vi lascio il link e nel sito se volete anche voi provare a testare i nuovi prodotti io me ne sono innamorata sono davvero tutte e due bellissimi diversi tra loro ma per me è da avere entrambi perché questo è per tutti i giorni e questo è per eventi un po' più speciali e particolari perché è davvero passione pura ma sono due meravigliose profumazioni italiane del nostro amato Giorgio quindi queste erano le due profumazioni che ho ricevuto sono felicissima di averle provate fatemi sapere se voi le usate cosa ne pensate se le avete mai provate tra i due ve l'ho detto lo amo di più infatti per la festa della mamma me lo farò regalare in formato grande perché è meraviglioso davvero e poi sulla mia pelle e tra i due questo dura molto 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 di più quindi è una questione anche di pH e di note che si sposano perfettamente con il nostro pH e questo è particolarmente adatto a me e lo sto amando alla follia quindi spero come al solito che il video vi sia piaciuto vi sia stato di compagnia soprattutto non sono un'esperta di profumi e ho semplicemente la passione e mi piace condividerla con voi spero che vi sia stato di compagnia utile se è stato così mettete un bel like fatemi sapere cosa ne pensate di queste due meraviglie io ringrazio TRND per avermi dato la possibilità di provarli sono troppo felice niente e se vi faccio ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao